Musica Buongiorno e bentrovati a Mattino 6, ultimo appuntamento della settimana per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Iniziamo subito dalla lettura delle prime pagine regionali, poi andremo a dare un'occhiata anche ai titoli nazionali. Il centro edizione di Pescara apre con il terremoto, più soldi per le case. Curcio della protezione civile dice serve prevenzione in Abruzzo e ancora allerta dopo le scosse in Valle Roveto. Andiamo a vedere poi nel taglio alto un richiamo dalle cronache nazionali. Incontro a Taranto, Conte e dagli operai dell'Exilva affrontiamo uniti la sfida. Poi nelle cronache Pescara il progetto piste ciclabili previsti altri 14 chilometri. Il Comune vuole realizzare 40 chilometri di piste ciclabili collegate tra loro sul territorio cittadino. Attualmente i tracciati misurano in tutto 26 chilometri. Gli amministratori hanno annunciato l'acquisizione a costo zero dei percorsi finora gestiti dalla provincia. Poi interpellati i cittadini, questionario sulla sicurezza a Montesilvano con la collaborazione dell'Università distribuisce questionari del Comune a residenti e commercianti di Villa Verrocchio per intervenire sulla sicurezza nel quartiere. Ancora lutto a Città Sant'Angelo, ristoratore muore mentre gioca a carte. Andiamo a vedere il centropagina. Negozi assaltati in centro. Un arresto preso dopo 20 giorni. Il giovane che ha sfondato con lo scooter le vetrine di quattro attività. E poi oggi i cioccolatini dell'AIRC si studia a Chieti la molecola che potrà battere il cancro. Il presidente di Confindustria Abruzzo Fracassi che presenta il programma ZES una priorità della regione. Nella fotonotizia il calcio di Serie B con la delicata sfida oggi in Toscana alle ore 18. Il Pescara tenta il colpo contro l'Empoli dell'ex Bucchi. Di spalla la cultura il festival del FLA, libri, politica, arte e musica oggi al FLA di Pescara con ospite anche Malika Aiane. Andiamo nel taglio basso il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna. Quando la libertà viaggia su un autobus è il titolo della riflessione di questa mattina. Andiamo avanti sempre sul centro. Edizione di Chieti Lanciano Vasto che in apertura ci propone lo stesso titolo della precedente. Terremoto più soldi per le case. Andiamo un po' a vedere però il centro pagina con la cronaca Chieti Scalo, casa popolare distrutta dall'incendio, le fiamme divampano nel palazzo, quattro le donne intossicate. Poi nel Vastese in mille senza un lavoro il reddito di cittadinanza c'è, manca l'occupazione, il centro per l'impiego. Siamo in alto mare, situazione questa per la verità che si registra un po' in tutta Italia. Nelle cronache a Chieti, fascista uccisa nelle foibe e lite sulla targa. Lite in consiglio comunale dopo la proposta della Lega di dedicare una targa a Norma Cosetto, figlia di un dirigente fascista e vittima delle foibe. L'opposizione non vota e il sindaco Umberto Di Primi accusa è una vergogna, nuova polemica tra maggioranza e minoranza. Andiamo a Cupello. Treste apre il cantiere da 13 milioni. Sono stati consegnati ieri mattina i lavori di sistemazione stradale all'incrocio tra la Fondovalle Treste e la Provinciale 187 in località Ponte Treste. Tra Cupello e Lentella lavori per un importo, come detto, di 13 milioni di euro. Ancora da Tessa, la regione dice sì all'ospedale di area disagiata. Nell'articolo di Spalla, il giornalista Costanzo ricorda in TV le sue origini ortonesi. Andiamo a vedere l'edizione teramana del quotidiano Il Centro. Ci spostiamo direttamente nel centro pagina. di scarica crollata, nessun colpevole, Teramo la Cassazione chiude con tutte assoluzioni una vicenda giudiziare a lunga, 13 anni. Nelle cronache falsa eredità, in due raggirano un'anziana, è stata avvicinata da due tipi ben vestiti che l'hanno raggirata con una marea di belle parole e le hanno fatto balenare la possibilità di ottenere tanto denaro. In realtà le hanno sfilato 2 mila euro e ha chioduto giovedì mattina nel centro storico di Teramo. La ricostruzione alloggi popolari parte l'iter per 31 cantieri. Qualcosa si muove nella ricostruzione post-sisma delle case popolari. Il neopresidente dell'Ater annuncia i progetti in itinere e il primo cantiere che partirà in primavera. A Giulianova Blitz antidroga ha trovato un chilo di eroina. E poi andiamo a vedere di spalla la storia a New York. Bollini, 69 anni, completa l'ennesima maratona. Mario Bollini, il veterano giuliese della maratona, che ha completato per la 34esima volta la corsa che si svolge a New York. Andiamo a vedere anche l'edizione aquilana del centro. Qui, lo vedete, l'apertura è dedicata al terremoto che torna prepotentemente in cronaca nella nostra regione. E poi ci spostiamo nelle cronache. All'Aquila, all'oggi post-sisma, i residenti siamo abbandonati. Situazione sempre più critica negli insediamenti del progetto case disseminati nel territorio aquilano. A Bazzano, per esempio, ci sono fidi elettrici pericolosissimi perché scoperti e liquami nei garage. Le proteste dei residenti vanno avanti da tempo, ma non cambia nulla. All'Avezzano muore a 62 anni l'insegnante Tarquinio, lutto nel mondo della scuola. Poi ancora a Sulmona, giovane e sfregiato a bottigliate, tre i denunciati. Trovato morto l'anziano scomparso, Montereale, l'84enne del re, era poco distante dalla sua auto, in una zona impervia. Poi di spalla il personaggio, la scrittrice all'Aquila, Daria Colombo, la passione contro i populismi. Ospite alle 18.30 della libreria Maccarrone all'Aquila. Lasciamo il centro, adesso ci spostiamo sull'inserto Abruzzo del Messaggero. In apertura anche qui il terremoto, vi adotti sotto esame. Autostrade, nessun danno dalla scossa di Balsorano, ma ci sarà un vertice al Ministero. Prosegue lo sciame sismico, pronti i centri di accoglienza, le scuole oggi restano chiuse. Poi Confindustria, Fracassi, ZES e Digitale per ripartire, così il neopresidente di Confindustria Abruzzo, Marco Fracassi, che ha esposto ieri il programma del suo mandato. Di spalla la Fira offre 60 postazioni di lavoro gratis alla stazione centrale di Pescara. Il progetto sarà potenziato e ampliato per aiutare i giovani imprenditori. Andiamo a centropagina, adesso la cronaca, spaccate nei negozi, preso il ragazzo con lo scooter a riete, in sella al motorino sfondava le vetrate ai domiciliari, un ragazzo di Montesilvano. Cittadinanza negata, sul sindaco si scatena la bufera, caso Segre, anche Lameroni, Bacchetta, Masci e bufera sul sindaco di Pescara, che non vuole concedere la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Nel taglio basso, l'Aquila TSA butta fuoco il nuovo presidente del teatro stabile d'Abruzzo. Andiamo a vedere poi sotto la testata le altre notizie. Chieti, casa in fiamme, tre donne respirano i fumi e finiscono all'ospedale. Candeline per la Rai Abruzzo, la regione raccontata per 60 anni e poi la Serie B, dunque lo sport con il calcio. Il Pescara c'è l'esame da big contro l'Empoli. Dei tanti ex novità, informazione, gioca Crecco titolare al posto di Busellato. K.O., la società invita Imbraimovic per scherzo a giocare col Delfino. Andiamo a vedere anche la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura, mini gara per le strisce blu. La giunta Vara la delibera per risolvere il caso della Tercop. Poi nella fotografia, andiamo a vederla a centropagina, la torre Cassazione che proscioglie i cinque imputati per il crollo. Nessun colpevole dunque per il crollo della discarica Teramana. Poi ancora l'Ater approva 31 studi di fattibilità. Il presidente Maria Ceci fa il bilancio del primo mese alla guida dell'Ater. Ancora Giulianova, lungomare pedonale, decide la maggioranza di spalla. Sempre da Giulianova alla Rocca, sequestrato un chilo e mezzo di droga, vale 100 mila euro. Ad Alba Adriatica, parco sportivo al posto della vecchia scuola. E poi nel taglio basso la corruzione, lavori blef, costi gonfiati delle varianti e regalini al geometra comunale. Montori Alvomano, consiglio decisivo per facciolini dissidenti pronti a rientrare. Dunque questa è anche la prima pagina della città, che chiude la carrellata sui titoli regionali. Adesso andiamo ad aprire lo spazio dedicato ai principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Il titolo di apertura, Ilva Conte va dagli operai. Taranto Di Maio, Arcelor Mittal rispetti gli impegni. Boccia se il mercato fallisce, tocca allo Stato. Il premier non ho la soluzione in tasca, divide l'ipotesi di una azienda pubblica. Andiamo a vedere poi le altre notizie. La scorta, Mattarella, l'odio è concreto. E Segre incontra Salvini, la senatrice, la commissione. Vedremo il mio ruolo in queste ore. Questo è l'argomento principale del dibattito italiano. Poi i commenti di spalla, Macron e Merkel, i tormenti dell'Europa sulla difesa. Poi ancora la riconciliazione, la destra e una via interrotta. Queste le riflessioni di oggi sul Corriere della Sera. Andiamo adesso sulla Repubblica. Il titolo di apertura, Autunno Nero Italia. Svegliati, crisi industriali, crescita in calo, debito in aumento, si accumulano gli allarmi e lo spread va più su. Bonomi, leader di Assolombarda, dice dal governo tante tasse e nessun passo concreto per l'economia. Intanto, Conte tra gli operai dell'Ilva di Taranto, combatteremo uniti questa la rassicurazione del premier. che vedete nell'incontro, in questa fotografia. Andiamo avanti a vedere poi la riflessione sempre sull'Ilva, l'analisi di Roberto Perotti. Non confondiamo l'Ilva con l'Alitalia. Due storie, per certi versi, che potrebbero essere accomunate, ma in realtà con percorsi completamente diversi. Poi il ritorno dell'antisemitismo, Liliana Segre incontra Salvini, Mattarella. L'odio va fermato, questo è il richiamo del Presidente della Repubblica. Andiamo sulla stampa ora. Il titolo di apertura sul caso Ilva. Si tratta con Mittal, sconto per l'affitto e lo Stato nella società. Possibile l'ingresso nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti o di Invitalia per abbassare il rischio. Conte a Taranto dagli operai, non ho la soluzione in tasca. Scudo, lite, fra PD e Movimento 5 Stelle. Di spalla, infiltrazioni mafiose nel calcio. Senza supporter, la squadra strappata ai boss. Questa è la notizia che riguarda il mondo dello sport. Poi in Siria con la madre parla il papà. Dopo la guerra mio figlio torna a fare il bimbo, il bambino che era stato portato via dall'Italia nel 2014. Pronto a rientrare nel nostro paese, a riabbracciare il padre. Andiamo avanti sul Fatto Quotidiano. Taranto, Conte in mezzo agli operai. Qualcuno li ascolta. Il titolo del Fatto Quotidiano. Il Premier risponde a chi grida chiusura, bonifiche, basta scudi. Mittal tratta su 2.500 esuberi e acquisto a metà prezzo. Poi ancora Milano stangata. Su MPS condannati i mussari e altri 12 per i derivati. Pene severe anche per il Deutsche Bank e Nomura. Andiamo a vedere il Sole 24 ore. Il titolo che apre il giornale sull'ex Silva. Governo bloccato. Sale lo spread. La crisi dell'acciaio, secondo il Sole. Conte a Taranto incontra gli operai. Servirà a tempo. Non ho soluzioni in tasca. Per lo Stato la vicenda comporterà un conto salato fino a 835 milioni l'anno. Il caso pesa anche sui BTB. Spread oltre quota 150 risparmi di spesa a rischio. Andiamo a vedere poi la fotonotizia a centropagina. Rimini investe 154 milioni per un grande depuratore. Le acque depurate non verranno scaricate in mare. Questa è la notizia che riguarda il turismo e anche l'ambiente. Andiamo a vedere poi qualche altra notizia. Regole europee più moderne per creare i campioni industriali. dibattito sull'industria all'interno di Confindustria e non solo. Questa è un'altra notizia che troviamo sul Sole 24 ore di questa mattina. Andiamo sul manifesto. Il titolo è sull'ILVA. A Fonderia, il titolo sulla fotografia come di consueto per il manifesto. Mittal sta fermando gli impianti dell'acciaieria. La denuncia dei sindacati nel giorno dello sciopero all'exILVA contro i ricatti dell'azienda. Conte vola dagli operai di Taranto e ammette non ho soluzioni in tasca. La protesta della città è inquinata. La fabbrica uccide e va chiusa. Poi nel taglio alto, Gorbachev quel giorno vinse la pace. Intervista all'ex presidente russo sulla caduta del muro di Berlino il 9 di novembre del 1989. Andiamo su Avvenire. Il titolo che apre il giornale è Bagno di realtà. Il premier vola a Taranto, si pensa, una società stato privati dopo Arcelor Mittal. all'exILVA Conte affronta le proteste degli operai e le famiglie. Qui si muore e i partiti litigano sullo scudo penale, l'ipotesi di una nuova cordata mista per salvare le acciaierie. Poi ancora, se il treno per Auschwitz da predappio non parte più, il sindaco Noi Fondi Mattarella, l'odio è concreto. Salvini vede la senatrice a vita segre. Poi banche condanne per il crack di MPS. Mussari, Deutsche Bank e Numura, i responsabili, secondo la magistratura. Andiamo sul messaggero. Il titolo è anche qui sull'ILVA. Conte tratta sull'ILVA, Mina, Movimento 5 Stelle, il blitz del premier a Taranto, non ho le soluzioni in tasca, proteste e confronto con gli operai. Di Maio, il PD vuole lo scudo, problema per l'esecutivo. Gli esuberi al tavolo con Arcelor. Il retroscena è Gualtieri, ministro dell'economia, esclude l'aiuto dello Stato. Mittal deve restare. Poi, invece, per il caso Liliana Segre, la senatrice vede Salvini, accompagnato anche dalla figlia. Poi, il ricordo di Fred Bongusto. Fred e l'Italia che sussurrava. Il cantante confidenziale è morto nella giornata di ieri. Qui vedete la foto del Sanremo 1967. Poi ancora, noi soldati nelle periferie. Il governo boccia l'idea a raggi. La difesa chiude e il viminale. Servono azioni dal Campidoglio per la sicurezza di Roma. Restiamo ai quotidiani romani. Il titolo del tempo che apre il giornale. Assalto a Salvini, tutti zitti. A Napoli, insulti al leader della Lega. Un esponente di sinistra cerca di passare le vie di fatto, bloccato dalla scorta per un soffio. Ma questa volta non scoppia il solito coro di indignati. Anzi. Poi andiamo a vedere l'altra notizia del centro pagina. Morte a Piazza Venezia, pedonalizzata a Natale. Questo per quanto riguarda Roma Capitale. Su Libero, sinistra, meschina e incoerente. Se l'africano è leghista, puoi dargli del negro. Il senatore Tony Ovobi, gli antirazzisti, tra virgolette, mi definiscono Zio Tom o Manichino, ma nessuno condanna certe barbarie. Poi dicono che il carroccio è intollerante. Questo è il titolo di Libero. Intanto Salvini incontra la Segre e Ferrara la fa cittadina onoraria, a differenza di quanto accaduto a Pescara, con tutte le polemiche che ne sono seguite. Andiamo sul giornale Ilva, al via i licenziamenti, la resa di Conte, non so cosa fare. Il premier assediato dagli operai alza bandiera bianca. Berlusconi, inadeguati, prepariamoci al voto. Andiamo a vedere anche la verità. Esclusivo, parla l'avvocato dell'uomo più ricercato dagli Stati Uniti. Un capo dei servizi segreti italiani disse a Scotti di far sparire Mifsud. Mifsud. Il mio cliente lavorava per il presidente della Link University, al quale riferiva tutto. I bonifici della cassaforte Gem erano soldi per lui. Ho chiesto come potessero versare importi di 400-500 mila euro. Se servissero a finanziare espionaggio, nessuna risposta. Dunque questa è l'inchiesta esclusiva della verità. Poi a centropagine il caso Ilva, intesa apre alla nazionalizzazione dell'Ilva, sia dura e contro l'Unione Europea. Sceneggiata dal premier tra gli operai, non ha soluzioni ed è sotto lo schiaffo dei 5 Stelle. Sul secolo, il titolo di apertura con la porta di Brandeburgo, liberi da 30 anni. Oggi si celebra la fine della divisione di Berlino. La Meloni parla a Milano. Nel taglio basso, in primo piano, la russa, noi sdoganati, sì, dalla caduta del muro. La Carfagna torna a casa, cena ad Arcore con il Cavaliere e poi Visco aspetta, tra virgolette, i migranti, quei 230 milioni in 10 anni. Il mattino di Napoli, il titolo di apertura Piano salva Ilva, il veto dei 5 Stelle. Questo il titolo sulla visita del premier Conte a Taranto. Le interviste del mattino boccia il problema e nei 5 Stelle devono capire che siamo alleati. Così il ministro boccia. Andiamo a vedere poi altre notizie. Al centro pagina basta con i bacetti. Undicenne fa arrestare il parroco pedofilo Trentola Ducenta. In manette Don Michele Mottola. Le pressioni, se racconti tutto, sei un kamikaze. Poi ancora il lutto nel mondo della musica. Fred scomparso a 84 anni. Scusate, il ricordo di Peppino Di Capri. Buon gusto, una rotonda sul mare di Ischia. Questo è il ricordo del quotidiano napoletano. Andiamo sul secolo XIX. Il titolo di apertura tra governo e Arcelor. Trattativa in due punti per il salvataggio dell'Ilva. Lo Stato potrebbe ridurre il canone d'affitto in cambio di azioni della società. Poi, per quanto riguarda le sfide della Liguria, Fincantieri e Gronda boccia. Sprona i ministri. Non fermate le opere. Poi si accende il dibattito sul futuro di Genova. Più turismo e cultura. Queste le sfide che attendono la Liguria. Chiaramente temi cari al secolo XIX. Che è quotidiano ligure e genovese. Andiamo a vedere poi i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali. La Gazzetta dello Sport chiaramente apre con la partita di cartello di questo turno di campionato. Juve-Milan mai visto. I giocatori di Sarri vantano oltre mille presenze in più in Champions. Il divario in classifica e del Monte in Gaggi non lasciano scampo. Anche allo Stadium si chiede il giornale. Selfie al campionato. Domani sfida tra grandi agli opposti. L'intervista a Capello. Ora tutte le stelle vogliono la signora Diavolo. Sbagliati certi giocatori. Ma se arriva Ibraimovic forse qualcosa può cambiare secondo Capello. Poi ancora andiamo a vedere nel taglio alto. Sempre all'attacco. Conte non mi accontento all'Inter per cambiare le cose. Le mie parole. Il club in privato mi dà ragione. E riparte dalla coppia infallibile. Lukaku-Lautaro. Per quanto riguarda il Napoli. Carletto guida gli ammutinati del Napoli alla prova del riscatto. Riconquistare i tifosi col carisma di Ancelotti. Genoa al San Paolo alle 20.45. Mentre alle 18.00 c'è la sfida fra Verona e Inter a San Siro. Diamo a vedere poi nel taglio basso le altre notizie per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport. Balotelli-Belotti il debutto di Grosso. La Chance Mazzarri che è Bresciatoro. Poi l'anticipo di A finisce 3-1. Caputo bis più Boga. Il derby emiliano del Sassuolo. Bologna sorpassato. Andiamo a vedere anche il Corriere dello Sport. Il titolo di apertura. Scurdem ciò passato in dialetto napoletano. Un sabato verità. Il Napoli in campo dopo il clamoroso ammutinamento. Il Genoa al San Paolo. Ancelotti chiede una ripartenza cancellando liti e ribellioni. Con i Sini e Mertens gioca Lozano. Milik in panchina alla sorpresa Isai. Taglio alto. Il nuovo Higuain spaventa il Milan. Gonzalo ricostruito da Sarri. Domani la grande rivincita. Mercato Summit per Haaland. Di spalla oggi alle 15. Brescia Torino. Baloterli rilancia la doppia sfida. Stop al razzismo. Il ritorno in nazionale con gli obiettivi di Super Mario. Poi l'Inter. Conte vado al massimo. Alle 18 c'è il Verona. Sensi KO. Il tecnico. Critiche costruttive dopo le parole. Nella partita persa a Dortmund. Salvo il Lecce. Amo la Lazio. Domani la sfida del cuore. Non dimentico il passato. Sogno un grande futuro. Queste le parole di Liverani. Andiamo su Tutto Sport. Il titolo di apertura. Higuain e Bonucci. Milan pentito. Gonzalo e il capitano ritrovano i rossoneri. Con cui hanno vissuto un'esperienza infelice. Nella Juve sono tornati al top. E hanno più fame di successi. Che mai. Poi nel taglio alto. Conte. Inter. O così. O così. Alle 18 il Verona. Il tecnico. Non sono qui per vivacchiare. Napoli. Muro contro muro. De Laurentiis vuol tagliare gli stipendi del 25%. Occhio al Genoa nella sfida di questa sera. Alle 15 a Brescia. Panchina in gioco. Mazzarri. Toro. Mi metto la corazza. Questa è la partita prevista dal cartellone del campionato. Nel taglio basso. Siner da sogno. Batte Ekmanovic in 4-7. Va in finale alla Next Gen Tennis. Da domani a TP Finals. Con Berrettini. Elena Linari che dedica la sorella ad Astori e alla fidanzata. Scusate. Dedicato ad Astori e alla mia fidanzata. Queste le parole della giocatrice della Nazionale Italiana di Calcio Femminile. Ci fermiamo adesso con la lettura delle prime pagine e con la prima parte della nostra rassegna stampa. Andiamo a fare il break pubblicitario. Prima però vediamo le previsioni meteo per le prossime ore. Poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Seconda parte della nostra rassegna stampa. Torniamo alle notizie abruzzesi nelle pagine interne dei quotidiani regionali. In primo piano sul centro il terremoto in Abruzzo. Notte di paura nell'epicentro. In centinaia dormono in auto a Balsorano. La terra continua a tremare in Valle Roveto. Oltre 30 scosse ieri. Vi racconto i fuggiti in strada e un incubo e scatta l'allerta arancione per il maltempo. Il presidente Marsilio visita le zone colpite. Terremo aperte le strutture di accoglienza ancora un paio di giorni. Attiva l'unità di crisi dei vigili del fuoco per i sopralluoghi. Poi il capo dipartimento della protezione civile Curcio. Più fondi pubblici per la sicurezza delle case. La prevenzione deve essere programmazione. Lo Stato deve incentivare gli interventi. Dobbiamo prendere coscienza dei rischi. Poi ancora andiamo a vedere sul messaggero ancora il terremoto giorno dopo. Sisma, viadotti autostradali sotto esame. I ponti della 25 non sembrano aver ricevuto danni ma la questione sicurezza torna. Più che mai d'attualità. La prossima settimana un incontro al Ministero a Roma per fare il punto sui fondi necessari per aprire i cantieri. Poi pronte, brande e coperte. Le scuole ancora chiuse. Lo sciame sismico ha proseguito per tutta la giornata di ieri. Allestiti i punti di accoglienza tranquillizzanti le verifiche fatte dai tecnici sugli effetti della scossa di 4.4. Andiamo a vedere anche la città. Prima di osservare il servizio, sisma balsorano. Le strutture d'accoglienza restano aperte. Il Presidente della Regione Marsilio ha incontrato i sindaci del territorio e i vertici della protezione civile. Mi auguro che in occasione dell'approvazione del decreto sisma siano accolte le istanze dei territori che vivono questa emergenza, detto Marsilio. E noi adesso andiamo a vedere insieme il servizio proprio sul sisma che ha colpito Balsorano e la Valle Roveto. La Marsica trema ancora dopo il sisma dell'altra sera di magnitudo 4.4, avvertito chiaramente anche a Roma e nell'alta Campania. Una nuova scossa, stavolta di magnitudo 3.5, fare affiorare alla mente tragici ricordi. La scossa è avvenuta una ventina di minuti dopo la mezzanotte e anche questa volta, come quella scorsa, l'epicentro è nei pressi di Balsorano, al confine tra Lazio e Abruzzo. Un'altra piccola scossa all'alba si è registrata a Macerata. Quando si tratta di terremoto sono rarissime le scosse isolate, si parla infatti di sciame sismico e questa notte le scosse in successione sono state almeno cinque. Nonostante non vi siano stati danni a persone o cose, si riaccende la paura in chi vive nella Marsica, una zona di massimo rischio sismico che già in passato ha avuto esperienza di diversi terremoti devastanti. Scuole chiuse in tanti comuni in provincia dell'Aquila e in Ciociaria per accertare le condizioni strutturali dei fabbricati. Molte le persone che svegliate dal terremoto sono scese in strada, alcune temono anche di rientrare in casa. Nei mesi precedenti e il sisma del 6 aprile 2009 che provocò 309 morti furono molti gli aquilani a dormire in auto. In quel periodo la Commissione Grandi Rischi intraprese una campagna mediatica di rassicurazione della popolazione. Dal processo che ne seguì è immerse che gli abitanti, convinti dall'autorevolezza della fonte, abbandonarono le misure di precauzione individuali, seguite per tradizione familiare, con tragiche conseguenze. I sindaci marsicani però si stanno già adoperando per fornire tende riscaldate in caso di emergenza. In questa notte alcune persone sono state ospitate nella scuola che è sicura e quindi soprattutto gli anziani abbiamo ospitato perché si sono sentiti più tranquilli insieme a noi. Veramente anche qualche cittadino ha preferito dormire in macchine, l'abbiamo avuto qui di Francia intorno al nostro municipio e nel centro di accoglienza. Quindi hanno sentito forte la vicinanza sia dell'amministrazione, delle forze dell'ordine, della protezione civile. Quindi abbiamo fatto tutto in modo preventivo e anche lavorato di più, direi, per eventuali emergenze. Tutte le strutture d'emergenza rimarranno attive finché è necessario, nel frattempo permane l'allerta gialla. La tensione è molto alta, non può che essere così quando ci sono scosse di questa intensità, ma è un'intensità che deve certamente allarmare ma non far perdere la testa. Quindi azionare tutti i sistemi di controllo, di difesa, di autosicurezza, di autoconservazione che certamente il territorio ha in essere, che le istituzioni hanno in essere, hanno posto in essere già da subito, ma che dovranno sicuramente essere procrastinate per le prossime ore, fin quando avremo la certezza della fine dell'emergenza. In questo momento c'è un'allerta, una tensione alta, ma con una consapevole serenità di avere i mezzi per rispondere all'emergenza. Andiamo avanti, l'AIRC è la lotta ai tumori in Abruzzo, una molecola intelligente può sconfiggere il cancro. A studiarla a Chieti grazie ai fondi proprio dell'AIRC e l'equip di cui fa parte già Luca Sala. Si tratta di un farmaco che agisce in modo selettivo contro le cellule maligne e oggi in piazza tornano i cioccolatini della ricerca con l'evento proprio dell'AIRC. Andiamo avanti nella pagina Abruzzo, Confindustria, il nuovo vertice, fracassi, ecco il programma, la ZES tra le mie priorità, la linea e le deleghe del nuovo presidente degli industriali, la politica Simo Biditi per far riconoscere dal Ministero la zona economica speciale. Scoccia contro la Lega, consorsi di bonifica nella riforma a solo più tasse, Stato-Regioni, danni da grandine, Bonaccini, Vede e Conte dopo le proteste della Regione Abruzzo per il mancato indennizzo. Andiamo nelle pagine di Pescara sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere questa doppia pagina in apertura dedicata alla città sostenibile, i piani del comune, sempre più piste ciclavidi, previsti altri 14 chilometri, bici gratis per i lavoratori di Regione Asle-Arta, stazione per ciclisti a Porta Nuova, Malafiab attacca percorsi poco sicuri, tracciato con buche, via Regina Margherita e tutt'altro che green, i problemi della mobilità verde a Pescara. Continuiamo sul centro, sempre nelle pagine di Pescara, andiamo al caso politico di queste ore, cioè il caso Segre, Spoltore, Scavalca, Pescara, le daremo noi la cittadinanza. Il centro-sinistra pescarese non molle porterà la proposta in consiglio, Fratelli d'Italia dice siamo favorevoli, acerbo di rifondazione comunista, senatrice madrina del Matteotti e Masci risponde a tutto campo su Shoah e Memoria. Apertura su questo caso della pagina di Pescara sul messaggero, da Segre al muro di Berlino le gaffe del centro-destra, ma anche il legame con la città, un boomerang la frase di Masci e di Incecco sulla cittadinanza onoraria negata alla senatrice a vita. La proposta della consigliera Sclocco scuote il centro-destra, fa discutere anche l'ambasciatore polacco oggi in consiglio comunale sul tema della caduta del muro di Berlino e noi possiamo andare a vedere proprio su questo argomento il servizio. La cittadinanza onoraria di Pescara, Liliana Segre, la senatrice a vita ebrea sopravvissuta alla Shoah, diventa caso nazionale con la politica locale che si divide, seppure con doverosi distinguo, con il centro-sinistra favorevole, il centro-destra che pur non dichiarandosi contrario sostiene la mancanza di legami della senatrice con la città di Pescara. La nostra posizione è di piena solidarietà per le minacce ricevute dalla senatrice a vita Liliana Segre e solidarietà nei confronti di tutti coloro che ricoprono un ruolo pubblico nelle istituzioni e che nell'esplicazione di atti e attività pubbliche ricevono minacce sui social e non solo. Quindi hanno fatto bene il prefetto e faranno bene tutti i prefetti che assegneranno scorte a tutti coloro che ricevono minacce sui social. Cosa diversa è la cittadinanza onoraria. Io credo che la senatrice Segre abbia ricevuto la più alta onore di Vicenza che lo Stato possa dare a un personaggio pubblico che ha subito quello che ha subito. Quindi il titolo di senatrice a vita penso che sia ampiamente sufficiente per testimonare la vicinanza di tutto il popolo italiano alla senatrice Segre. Altra cosa è la cittadinanza onoraria che credo sia una butata che peraltro, come ho detto specificato nel comunicato, non attiene nemmeno ai legami con la città di Pescara. E si è spaccato il centrodestra perché c'è una parte che a favore il sindaco insieme alla Lega sono contro. Noi comunque presenteremo l'ordine del giorno e vedremo se riusciranno a trovare la quadra. Quadra che per esempio la città di Varese ha trovato perché a Varese tutti hanno votato per la cittadinanza onoraria Liliana Segre. La Lega sostiene che non ci siano però legami diretti tra la senatrice Segre e la città di Pescara. Questa è veramente una grande... mi fa sorridere se non fosse triste. La cittadinanza onoraria si dà proprio per creare un legame con persone dal grande valore. Se fosse cittadina non avrebbe bisogno della cittadinanza onoraria. Ricordo che gli stessi che dicono quest'oggi hanno votato a favore per la cittadinanza onoraria pescarese al PM di Matteo che non ha assolutamente nessun legame. Andiamo avanti. Sempre sul quotidiano Il Centro. Negozi sfondati a colpi di scooter. Il ladro arrestato dopo 20 giorni. Vetrine infrante a ripetizione nei locali del centro per portare via borsa e registratori di cassa. Giovane di Montesilvano incastrato dalle telecamere e dalle ferite provocate dalle schegge di vetro. Aggredita, presa a pugni e derupata del telefonino. Donna picchiata in via Sacco dopo una litera. Intracciato e arrestato un cinquantenne. La vittima ha chiesto aiuto in un negozio. L'uomo bloccato subito dalla polizia. Diciassettenne pestato in via Piave. Sta bene, oggi tornerà a casa. Operato, nessun problema alla vista. E poi la cerimonia in omaggio dei tre Vigili del Fuoco morti per cui sono stati celebrati i funerali ad Alessandria. Cerimonia e omaggio ai Vigili del Fuoco anche a Pescara. Andiamo avanti. Stagi in aziende estere per i diplomati pescaresi. Iniziative di confartigianato. 100 tirocini per 120 giorni in 5 paesi europei. Il bando per i primi 15 ragazzi scade il 6 dicembre. Tutte le spese sono coperte. Proseguiamo nella pagina di Montesilvano. Comune, Università, una città più sicura. Villa Verrocchio decidono i cittadini. Iniziativa del Comune per la riqualificazione dei quartieri. Saranno distribuiti questionari a residenti e commercianti. Tassa di soggiorno di un euro. Così si rilancia il turismo. L'assessore incontra gli albergatori a Montesilvano. Lutto a Città Sant'Angelo. Si sente male mentre gioca a carte. Muore il ristoratore Falciatore. Il titolare dell'omonimo agriturismo in Contrada Cantini è stroncato da un malore in un bar a Elice. Oggi alle 15 il funerale nella collegiata di San Michele. Ponte sul Saline. Visita di Marsilio sopra il luogo del Presidente della Regione. Opera di massima importanza, ha detto il Presidente della Giunta. Francavilla, l'ordinanza del Sindaco lavori alla rete idrica lunedì. Niente acqua e scuole chiuse. Gli operai dell'ACA devono riparare un guasto in corrispondenza del lungomare Tosti. Nelle zone limitrofe sarà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile dalle 8 alle ore 17. A Francavilla, Lega e PD, grandine polemica sui mancati rimborsi con Francavilla. Una delle città più colpite dalla grandinata del 10 di luglio scorso. Proseguiamo con la pagina della Val Pescara. Cinema e turisti. Il boom dell'erimo di Santo Spirito. Rocca Morice da luogo abbandonato ad attrazione con 16 mila visitatori nel 2019. E dopo il film di Sorrentino e la fiction Il nome della Rosa, il Sindaco rilancia. Andiamo a vedere e completare anche le pagine di Pescara sul messaggero. Furti con spaccata, arresto a sorpresa e il titolo sull'operazione dei carabiniere e polizia che hanno incastrato Tristan Fernando Taglieri, 18enne che un anno fa venne pestato da Coitanei in via Parini. Gli vengono attribuiti quattro colpi in serie nei negozi e il furto di due scooter avvenuti il 17 e il 18 di ottobre scorsi. Poi nel taglio basso, Aiane, Gipi da Milano, Scansi, il Fla cala gli assi. Questo per quanto riguarda il festival pescarese. Andiamo sulle pagine di Chieti, sempre sul messaggero. Fiammata dentro la cucina, tre intossicate, casa inagibile, una pentola rovesciata, la causa del rogo nell'alloggio di una famiglia del Burundi. Vigili intervenuti con bombole autoscala. La procura indaga per incendio colposo. Andiamo a vedere anche l'apertura delle pagine di Chieti sul quotidiano Il Centro. Appartamento distrutto dall'incendio, fiamme nel palazzo, quattro donne intossicate, paura nelle case popolari in via d'acquisto. Il rogo di vampa mentre un'inquilina sta cucinando i residenti. È stata una tragedia sfiorata. Vedete le foto abbastanza eloquenti. Proseguiamo ancora sul centro. L'ite in consiglio targa per la fascista uccisa nelle foibe, scontro in comune. La Lega ricorda Norma Cossetto. L'opposizione non vota. Il sindaco, fate schifo, vergogna di Iorio del PD, dice, è nervoso. E poi Costanzo con Ciro Immobile ricorda le sue origini ortonesi. Questo per quanto riguarda il famoso giornalista Maurizio Costanzo. Ancora sì all'ospedale di area disagiata. A Tessa la regione rinnova l'impegno. Inaugurato il nuovo mammografo digitale. Incidente da Tessa. Auto finisce contro un camion. Due feriti, una donna è grave. Ancora in mille senza lavoro ma col sostegno. Vasto viaggio al centro per l'impiego tra i beneficiari del reddito di cittadinanza. Triste restare così. Queste le loro parole. Torniamo nelle pagine di Chieti del messaggero. Foibe, Targala, Cossetto, scontro tra Sindaco e Diorio. L'opposizione uscita dall'Aulea e di prima ha orlato vergogna. Abbiamo visto anche in precedenza. Poi nuovi asfalti, solo lavori tampone. Pupillo ci vorrebbero 120 milioni per ripristinare le province o chiuderle. Partono interventi grazie al masterplan. Il senatore D'Alfonso di Stonia torni sotto la competenza dell'ANAS. Poi ancora colpo bis in tabaccheria, ladro d'auto in manette a Lanciano. A testa gravi fratture per una donna tamponata da due mezzi all'incrocio. Questo per quanto riguarda l'ennesimo incidente stradale in quella zona. Andiamo nelle pagine di Teramo. Restiamo sul messaggero. Ricostruzione, il primo cantiere dell'Ater soggerà a Colle Atterrato. La data prevista è la primavera del 2020. Interesserà via Adamoli, ovvero la palazzina divenuta simbolo. Da lunedì due nuovi impiegati per snellire il percorso delle pratiche rimaste indietro. La presidentessa Maria Ceci. Vogliamo far rientrare mille sfollati subito. Prima di andare a vedere il servizio, andiamo nelle pagine di Teramo del Quotidiano Il Centro per vedere insieme l'apertura di pagina. Di scarica crollata non ci sono colpevoli. Lo sancisce la Cassazione dopo 13 anni. La Suprema Corte respinge il ricorso della Procura Generale. conferma la sentenza d'appello che scaggiano tutti. Andiamo a vedere anche, torniamo sulla questione che riguarda l'Ater. Prima di andare a vedere il servizio sulla città, Ater in un mese approvati 31 studi di fattibilità. Il neopresidente Maria Ceci presenta i risultati conseguiti nei primi 30 giorni sul fronte della ricostruzione. I lavori in via Adamoli previsti in primavera, presto l'assunzione di due collaboratori amministrativi B3. E noi possiamo andare a vedere insieme il servizio. Bilancio positivo del primo mese di attività sotto la presidenza di Maria Ceci e l'Ater Teramo. Approvati 31 studi di fattibilità per futuri affidamenti di lavori di ristrutturazione su immobili inagibili per un importo di 30 milioni di euro. Intanto un primo cantiere partirà con l'atterrato in via Adamoli 48 nella primavera del 2020. Il progetto è stato appena depositato in comune. Ci tenevo ad aggiornarvi in merito al primo mese di questo consiglio di amministrazione. È l'attività che è stata svolta dalla Terteramo, con particolare riferimento alle delibere del consiglio di amministrazione che sono state adottate in data 4 novembre e sono stati approvati 31 studi di fattibilità afferenti proprio agli immobili da ricostruzione da Sisma 2016. Sono stati approvati questi 31 studi, riguardano per un valore di circa 30 milioni di euro e soprattutto riguardano diversi un po' tutta la provincia, circa 21 immobili nel comune di Teramo, uno il comune di Roseto, Campli, insomma tutto riguarda tutta la provincia di Teramo. Queste sono appunto già le prime attività che l'atterteramo ha svolto, che il consiglio di amministrazione ha approvato in questo primo mese. E poi ci sarà anche un aumento di personale? Sì, per quanto riguarda il personale abbiamo già adottato due delibere di assunzione a tempo determinato di due risorse e già da lunedì, quindi lunedì prossimo, verranno assunte a tempo determinato due risorse proprio per andare a potenziare l'attività finalizzata alla ricostruzione post-sisma. La Presidente Ceci assicura che i tempi di intervento saranno più veloci rispetto al passato grazie ad una stretta sinergia instauratasi con la Regione. La spesa complessiva che dovrà affrontare l'ente per la ricostruzione post-sisma su 52 immobili è stimato intorno ai 58 milioni di euro. I mille sfollati ater vogliono e devono tornare a casa il prima possibile. Le pagine della provincia terramana su Messaggero e Centro. Scacco al Torrione, maxi sequestro di eroina. I carabinieri hanno preso quasi un chilo e mezzo di sostanze stupefacenti, soprattutto pure. Donna arrestata e due denunciati. Operazione anche della Polizia Municipale coordinata dal Sindaco per la bonifica di Palazzo Massei. Poi il blitz dei carabinieri a Monterotondo, sequestrati immobili anche a Tortoreto Lido. Nel taglio basso le altre notizie. Ritrovato nella notte l'anziano scomparso in Val Vibrata, aveva lasciato la casa di riposo ad Ancarano. Fallimento di Gennaro, le case vanno all'asta. Sempre in Val Vibrata, a San Martino inizia la Kermesse degustazioni. Poi a Giulianova sarà abbattuto l'ex mercato coperto. Pagine della provincia terramana anche sul centro. Lungomare di Silvi al buio da quattro giorni. Il blackout prolungato è interessato anche le vie interne del centro. Secondo il comune dipende dalla vetusta dei cavi. Nel taglio alto agricoltore salva la sua pecora dall'assalto di un lupo a San Giacomo di Atri. E poi l'osservatorio atriano sono troppi. Discarica concessi al consorzio, 90 giorni per variare il progetto. Andiamo sulla città per completare le notizie dal terramano. Torniamo sulla questione di scarica alla torre. Nessun colpevole per il crollo. La Cassazione conferma la sentenza d'appello. Scaggionati Chiodi, Rabuffo, Gerardini, Di Giacinto e D'Antonio. A 14 anni di distanza dal crollo dei rifiuti, la discarica alla torre rappresenta ancora un problema ambientale. Stazione, ecco come migliorare i progetti. Tre comitati di quartiere presentano le loro proposte per rotatori e viabilità ciclopedonale e piazzette nella città di Teramo. Avanti varata la gara a ponte per gestire le strisce blu. Approvata è in giunta la delibera per risolvere il caso Tercop che intanto attende l'esito del ricorso al Tar. La Ruzzo d'Alberto continua a isolare Teramo. Per il centrodestra la battaglia di principio del sindaco sulla governance non porterà a nulla. Andiamo avanti a Montorio. Consiglio decisivo per il futuro di Facciolini. L'assise di questa mattina dovrebbe sancire. Rientra in maggioranza di due consiglieri dissidenti. Poi parco e impianti sportivi al posto della scuola al Badriati che ha approvato in giunta il progetto per il recupero dell'area della Fabio Filzi. E poi arrivano i fondi per mettere in sicurezza il Vibrata. 25 mila euro dalla regione. Nella pagina successiva lungomare pedonale decide la maggioranza. La proposta di Giulia Nova Turismo sarà esaminata in un apposito tavolo. Via ai lavori sulla provinciale di Colonia. La strada resterà chiusa sette giorni per intervenire sulla frana che ha rotto la condotta del Ruzzo. Torniamo sul quotidiano. Il centro andiamo nelle pagine dell'Aquila. Le spine del post-sisma, i nuovi quartieri, piano case, fili elettrici scoperti e liquami nei garage di Bazzano. I residenti verso l'undicesimo Natale negli edifici provvisori in periferia tra disagio e solitudine. Noi abbandonati dal comune e dai vigili urbani. In corso la gara da 2 milioni per la manutenzione. Andiamo a vedere anche la pagina dell'Aquila sul centro. Il terremoto scuote il cratere dove era già tutto bloccato per quanto riguarda il nuovo sisma a Balsorano. Fracassi, rilancio grazie a zesse, opere e bandi dell'Unione Europea. Il nuovo presidente di Confindustria si presenta così nel taglio basso. Confartigianato due anni all'ex presidente Luigi Lombardo coinvolto nell'inchiesta sui corsi. Fantasma le altre sentenze. Poi ancora, TSA, il presidente sarà buttafuoco. Il giornalista e scrittore scelto per il dopo de Simone. L'ufficialità lunedì con una delibera di giunta regionale. Possibile oggi un primo blitz in città per prendere contatto. Il teatro riscuote un gran successo. Abbonamenti a Ruba. Nella pagina successiva, sanità e polemica sul parto indolore. L'ex sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio apre il fronte della vicenda. Vorrei che i miei cittadini non andassero a nascere all'Aquila. Ceglia e dei democratici rincara la dose. Che fine hanno fatto i fondi per il nuovo ospedale? Quello vecchio ormai è insicuro. E siamo così arrivati alle pagine dello sport. Partiamo chiaramente dalla Bieda al Pescara che ha l'esame da Big a Empoli. Oggi pomeriggio alle 18. Zauri sfida la corazzata toscana al Castellani. Altra tegola per il tecnico. Out Busellato. La mossa sorpresa è il debutto di Crecco. Mancuso, Romagnoli e Bucchi. Ex in cerca di riscatto nei Toscani. Andiamo a vedere sul centro la doppia pagina dedicata proprio alla sfida di questa sera, di questo pomeriggio. A Empoli. Empoli-Pescara. Tegola-Zauri. Busellato-K.O. Crecco pronto al debutto. Stiramento per la mezzala. L'allenatore Biancazzurro conferma il 4-3-2-1. Tra campo e web le curiosità. Empoli-Tabù. L'unico colpo al Castellani è Di Zeman. Tra i 18 precedenti solo una vittoria nel 2012. Bucchi recupera la gumina. Burla social. Il Pescara ingaggia Ibrahimovic. Il tweet diventa subito virale. Noi possiamo andare ad ascoltare il pezzo che riguarda il Pescara. Allora, mi dicono dalla regia che il servizio non è al momento pronto. Allora, andiamo a vedere le formazioni probabili della partita, non ancora ufficiali, chiaramente, della partita di questa sera alle 18, arbitrata da Aureliano di Bologna. Il Pescara con in porta Castrati, poi Zappa, Bettella, Scogna Miglio e Masciangelo. Memusciai, Palmiero e Crecco a centrocampo. Galano, Borrelli e Macin in avanti. Per quanto riguarda Lempoli, Brignoli in porta, Vaselli, Maietta, Romagnoli e Balcovec in difesa. Bandinelli, Stulaz e Frattesi a centrocampo. Dezzi a supporto di Mancuso e Lagumina. Vediamo il servizio. Aria di casa per Luciano Zauri che ha diretto la seduta di rifinitura che il Pescara ha sostenuto stamani nella sua pescina, allo stadio Barbati, per poi proseguire il viaggio verso la Toscana. Domani alle 18 il Delfino sfiderà al Castellani una delle favorite alla vittoria finale. Quell'Empoli però ora un po' annebbiato dopo le ultime cinque uscite nelle quali ha raggranellato appena tre pareggi e due sconfitte. Una flessione che fa traballare la panchina dell'ex Cristian Bucchi. Zauri è stato prima compagno di squadra nelle nazionali giovanili, poi lo ha avuto come allenatore proprio al debutto dello stesso Bucchi sulla panchina bianca-azzurra nel 2013 quando fu promosso dalla primavera alla Serie A per traghettare un Pescara che sprofondava verso la retrocessione. Abbiamo un ottimo rapporto con Cristian e anche l'allenatore. Poi come tutti gli allenatori quando le cose non vanno bene si è messo, speriamo che non venga mandato via dopo la partita di sabato perché comunque si vuole dire che gli danno ancora più tempo per migliorare la situazione. Il rapporto tra i due dunque è ottimo ma Zauri potrebbe dargli una spallata in caso di colpaccio e un Pescara che cambierà poco. Dalla cintola in su si ripartirà dal trio Memusciai-Palmiero-Busellato, Macin e Galano, entrambi in gran spolvero, alle spalle del baby Borrelli. Stringerà i denti Palmiero, sempre alle prese col fastidio al tendine Rotuleo, davanti a Castrati, ballottaggio Zappaciofani con il terzino ex Inter che ha buone chance di conferma dopo la bella prova col Pisa e poi Bettella, Scognamiglio e Masciangelo. In casa Empoli Bucchi non recupera Moreo ma ritrova Lagumina pronto a fare coppia con l'ex bomber Biancazzurro, Leonardo Mancuso. In difesa a Veseli a destra sostituirà l'infortunato Gazzola mentre in Mediana rischiano il posto Bandinelli e Stulaz a beneficio di Bairami e Ricci, il Rosetano Dezzi trequartista. La partita sarà diretta da Gianluca Aureliano di Bologna con cui il Pescara ha due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte in sette precedenti, l'ultimo dei quali in questa stagione è comunque positivo, il successo ad Ascoli per 0-2. Meglio l'Empoli che ha il 100% di vittorie, 3 su 3, col precedente stagionale rappresentato dal rocambolesco derby vinto a Pisa 2-3. Al Castellani poi il bilancio tra Empoli e Pescara pende decisamente dal lato dei Toscani che si sono imposti otto volte a fronte di nuove pareggi e di una sola vittoria del Delfino che risale al gennaio 2012 quando la squadra di Zeman vinse 0-2 con le reti di Magnero e Insigne. Sempre con Zeman in panchina, l'ultimo episodio in campionato nel 2017 sconfitta del Pescara 3-1 con l'esplosione del caso Pigliacelli. In questa stagione le due squadre si sono affrontate in Team Cup ad agosto, successo a Impolese 2-1 ai tempi supplementari con le reti di Tuminello, Dezzi e Moreo. In Serie C il Diavolo, Teramo col Picerno a caccia del record di Giuseppe Latina. Domani a Potenza Tedino vuole la quinta vittoria di fila all'ex DS Biancorosso. Ricomincia dalla Serie D. Andiamo a vedere il titolo sul Teramo anche sul messaggero. Teramo, beneficenza e intregare al Bonolis. Patron Iachini, parte dell'incasso sarà devoluto alle associazioni che fanno assistenza. Oggi la partenza verso la Basilicata, obiettivo il quinto successo consecutivo per Tedino. La Serie D, Pineto oggi ha recanati per sapere quanto vale e poi ancora per Ladino, Taresco col Matelica per continuare il filotto. Ma torniamo al Teramo con il titolo sulla città. Teramo a Natale vince la beneficenza. Nelle prossime tre gare interne sarà devoluto un euro per ogni biglietto e abbonamento. Tedino è il ghigno del diavolo, il tecnico ha parlato della gara di Coppa di mercoledì, un atteggiamento entusiasmante da parte di tutti. Il gruppo di giocatori deve sapere che non ci sono titolari e riserve. Andiamo a completare le pagine di Sport sul centro. Pallavolo di A2, la capolista Pedron, sorpresa Sieco. Ora un duro banco di prova. L'alzatore degli Ortonesi domani alle 18 tornerà da ex a Castellana Grotte. L'obiettivo resta la salvezza e con i risultati riporteremo gente al Palasport, dice. Poi per la Serie D il Pineto ha recanati per verificare le ambizioni di vertice. Nella pagina successiva il basket di A2, Ciber, Ciribeni, Roseto alla riscossa. La guardia marchigiana degli Sharks serve un colpo con la Poderosa per noi e per i tifosi. Domani partita a Porto San Giorgio. Per il Futsal, Acquessapone, Colormax da sballo. I nerazzurri mandano K.O. Pesaro, Pescara piazza il colpo a Genova. Poi per la palla a mano di A2, nuova HF all'esame Civitavecchia. Lions cerca il colpo con il Putignano. Nel taglio basso, selezione Chieti Pescara, le convocate lunedì agissi il quarto allenamento per formare la rappresentativa delle pallavolliste femminili nate tra il 2006 e il 2007. Andiamo a completare anche le pagine che riguardano lo sport sulla città. Per quanto riguarda la pallavolo, Bluitali Pineto sfida in Puglia contro l'Andria. Poi andiamo ancora avanti con il basket Teramo a spicchia. Alle 18 arriva la capolista e Biancorossi, secondi della classe, se la vedranno contro Pescara. Squadra imbattuta fino a questo momento. Di spalle il paraciclismo a Desi e Tarlao in ritiro in pista per i mondiali. Nella pagina successiva la palla a mano. Partenza con slancio per la nuova HF Handball. La squadra teramana è seconda in classifica nel girone C del campionato di A2 con quattro vittorie. E' tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Mattino 6 torna lunedì alle ore 8. La nostra informazione oggi con il TG6 alle ore 14, alle 19 e alle 23. Edizione delle 19 che sarà leggermente anticipata per lasciare spazio al commento della partita fra Empoli e Pescara con Diretta Stadio. Per quanto riguarda invece la nostra programmazione, poi domani ci sarà tutta la giornata dedicata allo sport, soprattutto con la Serie D e con la Serie C. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata. Grazie per averci seguito.